A Bruzzo bisogna di recuperare ancora 11.000 posti di lavoro rispetto ai livelli pre-crisi del 2008. Vi sono molte opportunità da cogliere e una domanda di lavoro da soddisfare. Il nostro è un disegno di legge quadro, di sistema, molto innovativo, che attinge alle migliori pratiche che sono state sperimentate in giro per l'Italia sulle politiche attive del lavoro. Il lavoro punta fortemente sui giovani, il lavoro ai giovani, la formazione finalizzata al lavoro. Vi è un elenco preciso di misure concrete che sono attivabili. Punta a tre grandi assi strategici di sviluppo della nostra regione. Industria 4.0, quindi innovazione, Carta di Pescara, quindi sostenibilità. L'Aquila, il rapporto Oxe, l'Aquila, la città della conoscenza. E quindi anche qui innovazione, sostenibilità. Insomma, un grande progetto per stimolare l'occupazione, per creare nuovi posti di lavoro, per sostenere e incentivare il sistema delle imprese a fare e promuovere buona e stabile occupazione. Le risorse sono disponibili, bisogna attivarle e spenderle con intelligenza. 35 milioni di euro sono già disponibili perché rivenienti dai residui della Cassa Integrazione Interroga, cioè risorse attribuite dal Governo centrale alla nostra regione. 40 milioni di euro riprogrammabili sul Fondo Sociale Europeo. Altre risorse che sono attingibili dal bilancio regionale che nei prossimi anni, a partire dal prossimo anno, vedrà liberate molte risorse. Noi sfidiamo la maggioranza, inerte, ferma, che non riesce ad affrontare neanche uno dei problemi della nostra regione. Questo è il nostro progetto, è un progetto concreto, serio, portiamolo in commissione, portiamolo in aula, approviamolo perché i nostri giovani, i disoccupati, espulsi dalle aziende in crisi, attendono risposte. Grazie. Grazie. Grazie.